Formazione per il personale sanitario, sostegno ai pazienti per i percorsi riabilitativi e la creazione di spazi terapeutici attraverso l'arte. È triplice l'obiettivo del protocollo firmato dalla Fondazione IRCS San Gerardo dei Tintori di Monza e la Fondazione Morandi che fa della formazione degli specialisti e della riabilitazione dei pazienti i suoi scopi principali. Un piano triennale che comincia dal finanziamento da parte della Fondazione Morandi di una formazione altamente qualificata rivolta fino a 5 professionisti all'anno nei settori del trauma e dell'urgenza e chirurgia addominale. Obiettivo formare equip mediche con continui aggiornamenti sugli ultimi progressi scientifici, tecnici e metodologici. L'accordo prevede inoltre il sostegno ai pazienti senza possibilità economiche e che necessitano di percorsi riabilitativi per perseguire una qualità di vita normale e sostenibile attraverso percorsi di riabilitazione motoria, psicologica e meccanica. Infine la collaborazione si concentrerà anche sul progetto Arte in Ospedale che punta a creare in aree come pronto soccorso e neuropsichiatria infantile ambienti di cura confortevoli anche a fine terapeutico sia per i pazienti che per gli operatori. Un protocollo che segna l'inizio di una collaborazione che si spera possa essere a beneficio di tutta la comunità monsese sottolinea il presidente della fondazione Morandi Matteo Morandi. Soddisfatto anche il presidente della fondazione IRCS San Gerardo Claudio Cogliati. Crediamo fermamente nell'importanza di investire nell'aggiornamento professionale del personale medico e infermieristico, nell'accesso equo ai servizi sanitari e nel potere terapeutico dell'arte nell'ambiente ospedaliero. Con il prezioso contributo e il sostegno della fondazione Morandi siamo certi di poter lasciare un impatto significativo sulle vite delle persone e sulla qualità complessiva dei servizi sanitari.